TENENTE Tenente? Oh, eccolo. Tenente, le avevo dato degli ordini precisi. Senta, io faccio solo il mio lavoro. Le sue stronzate sulla giurisdizione, se le infili da dove le sono uscite, può darsi che le piaccia. Erano ordini per la vostra salvaguardia. Una ragazza in difesa, la possiamo gestire. Ho mandato due unità. La stanno portando fuori. No, tenente, i suoi uomini saranno già cadaveri. Morpheus, la linea era sotto controllo. Non so come. Lo so, hanno tagliato la hard line. Non c'è tempo, devi raggiungere un'altra uscita. Ho agenti alle costole? Sì. Non ci voleva. Concentrati. C'è un telefono tra la Wells e la Lake. Puoi farcela, Trinity. Va bene. Va. Puoi farcela. 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 Non è possibile. In piedi, Trenti, alzati. Dai, in piedi. Dai, in piedi. È scappata. Non importa. L'informatore è affidabile. Già. Abbiamo il nome del loro prossimo obiettivo. Sì, si chiama Neo. Occorre una ricerca estesa. Già cominciata. Iscriviti al nostro canale. Iscriviti al nostro canale.